Alla fine del V secolo il territorio dell'impero romano d'Occidente era ormai interamente occupato da popolazioni di stirpe germanica. Tra il IV e il V secolo esse avevano dato vita a regni relativamente stabili, seppure assai differenti tra loro per ampiezza e organizzazione. La loro formazione non fu il risultato immediato delle invasioni del V secolo. Sappiamo infatti che grazie alla politica delle alleanze di imperatori come Costantino e Teodosio nel IV secolo i popoli cosiddetti barbari si erano gradualmente insediati nei territori dell'impero. Nel V secolo essi approfittarono della debolezza dell'autorità imperiale per costituire regni autonomi, i regni romano-germanici. Vediamo insieme i principali partendo dall'Italia. Guidati dal loro re Teodorico, gli ostrogoti conquistarono la penisola dopo aver sconfitto Odoacre nel 493. Teodorico fu riconosciuto dall'imperatore d'Oriente come suo rappresentante in Italia e restò al potere fino al 526 d.C. Benché Ariano non credeva cioè nella natura divina di Cristo, Teodorico cercò la collaborazione della classe dirigente romana e cattolica, ma non consentì la fusione dei due popoli per poter mantenere la superiorità dell'elemento germanico. Molto diversa fu la politica di Clodoveo, re dei franchi, che nel 481 unificò le diverse tribù stanziate nella Gallia settentrionale, dando vita al regno dei franchi. Egli si convertì innanzitutto al cattolicesimo, ottenendo così l'appoggio dei vescovi e dell'aristocrazia romana. In tal modo i franchi, convertitisi anch'essi sull'esempio del loro re, poterano integrarsi più facilmente con la popolazione di origine romana. Nel 443, sempre nel territorio della Gallia, più precisamente nella valle del Rodano, si costituì il regno dei Burgundi, che durò fino al 534, quando fu conquistato dai franchi. Nel 418, in Spagna e in Gallia meridionale, si formò il regno dei Visigoti. La parte situata in Gallia meridionale fu conquistata dai franchi nel VI secolo, mentre l'area iberica del regno resistette fino al 718, quando l'intera Spagna fu conquistata dagli arabi. Nel 429, sotto la guida del loro re Genserico, i vandali occuparono e conquistarono le province romane dell'Africa, che tennero fino al 534. In Britannia, la presenza romana fu letteralmente spazzata via dagli Angli e dai Sassoni, provenienti dalle regioni settentrionali della Germania e dagli odierni Paesi Bassi.